Marco D'Amore, Vinicio Marchioni, Drive Me Home Allora, due ragazzi che lasciano il loro piccolo paese della Sicilia, due amici e vanno Vanno per cercare qualcosa, tipo un'identità, o vanno per fuggire? Ma soprattutto dove vanno? Quando si va? Dove si va? Beh, questo viaggio che intraprendono questi due ragazzi non è semplicemente un viaggio geografico che è anche quello nel film, perché si parte dal centro dell'Europa, lo si attraversa si attraversa lo stivale e si arriva nel sud profondo dell'Italia però è anche un viaggio emotivo, è un viaggio anche spirituale è un viaggio fatto di molte domande e poche risposte, così come succede nei rapporti complessi ed è un viaggio che secondo me pone degli interrogativi molto interessanti rispetto al presente e cioè che cos'è casa? Dove è casa? La casa è semplicemente un posto, un luogo o può essere anche una persona, può essere anche un'idea, può essere un concetto e soprattutto quanto a volte per crescere si debba rinunciare a tanto di sé per cercare un proprio piccolo posto a questo mondo Finicio, ovviamente uno dei temi centrali è l'amicizia che c'è tra voi però uno dei due ha una sorta di segreto e sottovaluta un po' l'altro dice no, non te l'ho detto perché pensavo che non mi avresti capito adesso non sveliamo di cosa si tratta quindi l'amicizia deve essere anche questo, deve essere anche accettare l'altro Deve essere, sai, l'amicizia maschile è un tema enorme insomma perché noi maschietti ci educano sin da piccoli a non condividere l'intimità non siamo bravi come le donne in moltissime cose in questa soprattutto non parliamo mai della nostra vita intima non parliamo mai delle nostre fragilità, della nostra intimità tra di noi e invece spero che con questo film insomma perlomeno una delle cose su cui abbiamo cercato di lavorare con Marco è proprio la necessità e la bellezza di condividere un semplice ma come stai quanto tempo che ti volevo dire questa cosa prendiamoci quella birra che non ci siamo mai presi ti chiedo scusa per quella cosa sono le cose più semplici della quotidianità degli uomini che noi invece ci mettiamo dentro, ingoiamo, non abbiamo l'abitudine alla condivisione e poi magari tutta questa roba si va a mettere da qualche parte oscura e si sfoga purtroppo sempre più spesso nella violenza e questa cosa se riuscissimo ad imparare con un po' più di leggerezza a condividere anche le nostre mancanze, le nostre fragilità forse potremmo diventare degli uomini migliori ci sono dei flashback assolati in questo film molto belli, si guarda attraverso gli alberi, si vede il sole sono ricordi, quindi l'importanza dei ricordi e della memoria è anche sottolineato, anche questo è sottolineato in questo film sono assolati perché raccontano forse del periodo più bello della vita quando si è liberi da tanti giudizi sull'altro che è l'età dell'ignoto è l'età in cui non si è ancora formati non si è ancora né maschi, né femmine, né uomini, né donne né simpatici, né antipatici, né talentuosi, né incapaci si è bambini e quando si è bambini si gioca insieme anche con molta serietà ma lo si fa accettando e includendo tutti e dunque non a caso quei ricordi sono pieni di sole perché sono la parte più illuminata dell'esistenza di questi due uomini Vinicio, quanto contano i ricordi? anche per tornare a casa? Beh, contano tantissimo soprattutto se fai il mestiere dell'attore nel senso che su quei ricordi sulle memorie olfattive anche o quelle mnemoniche proprio ci si lavora insomma su questo film penso che ognuno di noi due abbia rintracciato i propri ricordi o qualcosa di un grumo appartenente ad un passato personale per condividerlo attraverso un gioco che è la fortuna di fare questo mestiere cioè quel gioco ricordarsi ogni giorno che abbiamo fatto finta di essere degli indiani o di essere dei cowboy e continuare a far finta di essere altro per includere lo sguardo di un pubblico che verrà a vedere i nostri film e questo film sperando di portarlo all'interno del viaggio che abbiamo fatto noi Ci sarà del teatro nel vostro futuro tu con i soliti ignoti anche tu salirei sul palcoscenico molto presto? Ma io dico sempre più spesso che il cinema e la televisione sono delle parentesi nella mia carriera teatrale queste parentesi a volte si allargano tanto per il prossimo anno sicuramente non potrò ritornare sul palco anche perché per me dedicarmi al teatro significa non fare nient'altro perché non intendo il teatro né come uno svago né come una vetrina ma è il mio mestiere è quello per cui ho studiato e dunque sono sicuro che tra un anno avrò il tempo per fermarmi per dedicarmi ci sono delle idee che mi tormentano e mi ossessionano vedremo quale di queste saprà farmi fare il miglior incubo magari dopo l'immortale invece tu I soliti gnoti lo porti a teatro come regista ma non solo sei sul palco ahimè sì nel ruolo di? Gasman forse Gasman sì però ancora non lo so I soliti gnoti da dicembre fino a marzo fino a fine marzo e poi la stagione successiva e poi invece come produttore e come regista al teatro Argoi all'Elfo Puccini di Milano la trilogia la trilogia dell'essenziale tre monologhi scritti da Valentina Diana interpretati da Marco Vergani che è un attore bravissimo e quindi insomma il teatro sta apprendendo sta continuando ad essere una parte fondamentale di tutto quello che faccio ultimissima per chiudere prima volta insieme in un film e poi per tutto il film come è andata? io penso che dal punto di vista e artistico e umano sia stato l'incontro più felice della mia carriera ad oggi nel senso nella misura in cui questo uomo è riuscito proprio ad aprire degli angoli bui della mia esistenza e a farmeli tirare fuori con quella leggerezza di cui parlava quindi il percorso artistico ha coinciso perfettamente con quello umano che poi è quello che un artista si immagina e spera sempre di poter avere con Vinicio è successo è stato un incontro raro si fa anche fatica a parlare nel senso che è stato un viaggio talmente intimo talmente un'unione umana professionale artistica mentale di pancia di vite la fortuna di poter condividere un film con un essere umano straordinario con un attore straordinario con un attore che mette in gioco tutta la sua vita mentre fa quello che fa è raro vorrei fare film solo con Marco D'Amore facciamo un appello Vinicio Marchioni solo film con Marco D'Amore come regista come produttore come qualsiasi cosa quando nascono queste cose negli Stati Uniti ci costruiscono delle carriere a noi ci dividono e non si capisce perché invece ma noi non ci faremo dividere prossima coppia anzi nuova coppia del cinema italiano grazie ciao spettacolomania ciao spettacolomania andate al cinema e a teatro ciao ciao